Forza Italia e Fratelli d'Italia insieme per difendere la Mucca. La Mucca è un patrimonio della Toscana, è un patrimonio del territorio e quindi un'eventuale cessione di quote è un soggetto esterno rispetto a quello che è il patrimonio e l'indotto della Mucca e Latte crea in Toscana in particolar modo nell'area Firenze, Prato e Pistoia. È un grave errore azzerare ciò che di buono ha fatto la Mucca e l'idea di chi l'ha poi creata perché la reazione parte da Sindola Pira, quindi la reazione di un indotto che è funzionale a uno sviluppo economico del territorio. Quali sono i rischi concreti di un subentro di Granarolo? Uno dei rischi concreti è molto semplice, Granarolo poi utilizzi i fornitori del latte, i soliti fornitori, quindi piccoli allevatori del Mugello e piccoli allevatori della Toscana ma vada a comprare la materia prima in altre zone, quindi si depotenzi fino a rimetterlo a rischio di chiusura tutto l'indotto e la Mucca e Latte ha creato e credo che i piccoli allevatori del Mugello sia un punto di riferimento fondamentale, tutta la produzione di latte della zona viene gestita, prodotta da Mucca e Latte con utili un po' in fondo ad esercizio. Quindi questo sarebbe un attacco a quel discorso di voler potenziare dal punto di vista economico della Toscana che anche fino a qualche giorno fa Nardella diceva di essere molto attento e cito testualmente Nardella, mai il pubblico deve rimanere in Mucca e Latte quindi questo c'è un cortocircuito istituzionale che deve essere spiegato ma a noi non interessa un cortocircuito, interessa difendere un tessuto economico e grazie alla Mucca e Latte regge un'importante zona come quella del Mugello.